La sezione aerea della Guardia di Finanza di Ramezza Terme ha scoperto e sequestrato un'altra piantagione di canapa indiana nell'area collinare del comprensiorio di Candidoni in provincia di Reggio Calabria. Ad operare sono stati i finanzieri del gruppo di Geataura della sezione operativa navale di Reggio Calabria, i quali, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi a seguito dell'avvistamento e segnalazione delle piantagioni da parte dell'elicottero hanno perlustrato una vasta zona dove, in un appezzamento di terreno occultato dalla fitta vegetazione circostante, hanno rinvenuto la coltivazione di cannabis indica, composta da numerosissime piante, tutte particolarmente rigogliose, alte sino a 4 metri e dal peso complessivo di 220 kg, piante che venivano alimentate da un sofisticato sistema di irrigazione a goccia costituito da 200 metri di tubatura collegata ad una fonte di acqua sorgiva. Così come disposto dall'autorità giudiziaria, le piante sono state estripate e distrutte sul posto unitamente al sistema di irrigazione. L'operazione ha consentito di sottrare alla criminalità organizzata gli ingenti proventi illeciti stimati in circa 320.000 euro che sarebbero derivati dalla vendita al dettaglio dello stupefacente.